Il Movimento La Puglia per Vendola chiama a raccolta i suoi per presentare il manifesto politico programmatico. 110.000 preferenze che hanno portato in Consiglio regionale 5 rappresentanti del Movimento, Angelo Di Sabato, Giovanni Brigante, Francesco Laddomada, Anna Nuziello e l'assessore Dario Stefano. Ad aprire la convention il presidente della formazione Sebastiano Leo che parla del Movimento come luogo di confronto permanente. Dopo gli interventi dei consiglieri prende la parola Michi Vendola. Il lavoro innanzitutto è la cosa più importante di cui ci dobbiamo occupare e annuncia un piano straordinario per il lavoro da attuare entro l'anno. Il rapporto con le imprese. Voi, dice il presidente, rivolgendosi a quel movimento che rappresenta la parte moderata dei vendoliani, avete catturato il consenso di un pezzo del mondo imprenditoriale, dei cosiddetti ceti moderati, anche se il ceto medio ormai non c'è più. Siamo in una situazione ottocentesca, solo ricchi e poveri. Noi, contro il berlusconismo, dobbiamo riacquistare l'eleganza del dire, della passione politica. Vendola parla da leader nazionale. Questa è un'Italia danneggiata dal berlusconismo e l'Italia peggiore a cui Vendola contrappone un'Italia migliore. Di polizia, di libertà, di diritti, il berlusconismo ha fatto troppi danni e abbiamo bisogno di cambiare il volto di questo paese.